Come Roma, Napoli e tante altre città italiane, da oggi anche ad Ariano Irpino sarà possibile pagare il parcheggio utilizzando lo smartphone. Niente più monete o grattini, come ha detto il sindaco Franza durante la conferenza stampa di presentazione della nuova modalità di pagamento elettronico, il Tricolle fa un passo in avanti verso la modernizzazione. Quattro le app collegate su cui sarà possibile pagare il parcheggio, EasyPark, Telepass, MyCicero e Anton. Basterà registrarsi, inserire un metodo di pagamento, la targa del proprio veicolo e selezionare l'area di sosta. Il servizio è già attivo da questa mattina. A presentare l'iniziativa al Museo della Ceramica il consigliere comunale Giovanni Marinaccio. Cambia che si può parcheggiare con sistema digitalizzato. Praticamente abbiamo l'opportunità di parcheggiare con quattro piattaforme, EasyPark, MyCicero, Anton e Telepass e ci consente di poter pagare tranquillamente e comodamente con un sistema elettronico. Un servizio in più che si dà alla città di Ariano un passo in avanti? Sicuramente un passo in avanti, cioè ci riallinea a quello che sono oggi le grandi città, quindi dare un servizio digitalizzato. Ormai ognuno di noi utilizza un sistema smartphone per poter fare qualunque cosa, andare su eBay, andare su Amazon e in questo caso possiamo anche, perché no, pagare il parcheggio e la sosta del Nelvino. Da quando sarà attivo il servizio? Il servizio è già attivo, da questa mattina.